Questo sono io, nove anni fa, quando feci il mio primo tuffo. Non lo sapevo, ma fu il primo di una lunga serie di tuffi. Mi ispirai ai migliori, imparando da loro la tecnica per il tuffo perfetto, allenandomi senza mai abbattermi. E grazie a loro, se non ho mai mollato. È stato un percorso duro, fatto di allenamenti estenuanti e di un continuo migliorarsi. Giorno dopo giorno. Questo sono io oggi.